Volgo l'occasione per dare un contributo sfilacode, presentando un servizio che è fruibile dal nostro portale che è il servizio di Pago.pia che consente di ottenere certificazioni sia per i cittadini che per i professionisti online con un pagamento naturalmente online tramite un preventivo accreditamento che può avvenire anche con Speed. L'invito è rivolto non solo ai cittadini ma anche ai CAF e a coloro che devono verificare le autocertificazioni perché ricordiamo che l'autocertificazione è il mezzo previsto per attestare stati, fatti e qualità che non sono assolutamente certificabili tramite la produzione di un certificato cartaceo quando l'istanza è rivolta alla pubblica amministrazione. Per i CAF e per coloro che hanno la necessità di procedere alla verifica delle autocertificazioni esiste questo sistema che abbiamo da poco inserito nel portale tramite un banner ben visibile dell'home page del comune di Giuliano e che consente da remoto di ottenere le certificazioni necessarie di evitare le lunghe code che sono ancora purtroppo nonostante l'introduzione già da un po' di tempo di questo sistema sono visibili e rendono defaticante anche la presentazione delle istanze, la pubblica amministrazione in particolare a quelle riguardanti il reddito di cittadinanza. Quindi le richieste sono aumentate a dismisura da quando è stata approvata questa legge sul reddito? Sì, questo sicuramente perché è evidente che è un provvedimento atteso per il quale è necessario requisiti e ricordiamo per la falsa dichiarazione sono previste norme molto severe, per questo il cittadino ritiene indispensabile acquisire ugualmente il relativo certificato per essere sicuro evidentemente di ciò che dichiara ma lo può fare anche comodamente da casa evitando le code tramite il portale del sito e colgo l'occasione per invitare tutti coloro che hanno una dimestichezza con i nuovi sistemi di certificazione di pagamento online a fruire di questo servizio.